è un po' denone che si risveglia oggi mercoledì in testa alla classifica del campionato di Lega Pro nel girone B i nero verdi sono reduci dalla bella vittoria a Mantova nella quarta giornata di andata del girone B di Lega Pro un po' denone che con il successo per 2 a 0 si ritrova solitario in testa alla graduatoria in un girone in un campionato che vede al via un overo di squadre di grande importanza Parma, Venezia, Padova sono tutte corazzate davanti alle quali però il po' denone sta già facendo la lepre. Il mister Tedino, i suoi collaboratori, i suoi staff sono tornati subito al lavoro in vista della partita del quinto turno in casa con il Parma un po' denone Parma che si pronuncia già ricchissimo di tanti significati e monta già l'attesa in città per questa gara che vuole almeno nelle intenzioni della società nero verde ritrovare un bottecchia pieno di entusiasmo e noi riprendiamo da questa settimana Sport Life speciale Ramardi la nostra finestra spalancata sul mondo nero verde per venire qui al centro sportivo De Marchi a metà settimana per capire quale sia lo stato d'animo dei giocatori del mister Tedino, quali siano gli obiettivi e le ambizioni dello staff tecnico della società e per dare uno sguardo ovviamente al turno successivo. Per quanto riguarda la classifica sinceramente non stiamo neanche a scherzare dopo quattro giornate fa piacere abbiamo fatto dei miglioramenti dall'inizio della stagione a Mantua abbiamo fatto secondo me una buona partita ricca di spirito di sacrificio di tutti quelli che si chiamano sentimenti nobili cioè di gente preposta all'umiltà se lo spirito di sacrificio al servizio del compagno e con questi ingredienti secondo me si parte già con grande vantaggio poi ci sono stati molto bravi dal punto vista tattico i giocatori perché hanno messo in pratica quello che abbiamo preparato in quei due miseri giorni di lavoro e quindi è anche una componente di grande intelligenza che hanno dimostrato. Se non c'è se non c'è disponibilità si può lavorare anche un mese se c'è grande disponibilità credo che si possa preparare tutto molto velocemente è chiaro che per noi allenatori sarebbe il massimo avere quella famosa settimana diciamo organizzata per riuscire a fare più cose più cose per la partita per aiutare i ragazzi a fare una gara diciamo al massimo delle proprie performance. Invece giocando ogni tre giorni obiettivamente questo manca e anche nelle energie non solo fisiche ma anche psichiche quindi bisogna essere bravi e loro sono stati meravigliosi a recuperare a ripartire a mettere diciamo di sacrificio per il compagno questo sì in questo in questo momento siamo molto attenti a fare in modo che i principi siano a buon punto più che le tattiche. Credo che la squadra stia facendo veramente uno sforzo notevole per mettere in pratica quello che vorremmo fare c'è un calcio ricco di aggressività un calcio ricco di di dispendio di energie e soprattutto di propositività. Questo momento lo facciamo ad alti e bassi però ieri la squadra secondo me è rimasta veramente molto legata molto vicina nei reparti con grandissima cultura del lavoro e questa è una cosa che a me non può far che piacere perché quando c'è grande moralità io credo che un allenatore debba essere soddisfatto. Se al centro del progetto c'è un'organizzazione se tutti vogliono suonare il loro strumento e con i tempi giusti e fare una buona musica è chiaro che c'è anche una divisione di compiti come gli attaccanti sono i primi difensori anche i difensori devono essere i primi attaccanti questo è un po quello che ci siamo prefissi ecco tutto è migliorabile lo sappiamo abbiamo fatto qualche errore anche ieri sera però secondo il mio punto di vista non credo che le altre squadre debbano preoccuparsi. Credo che tutte quante le partite in questo momento siano molto difficili per tutti e quindi anche affrontare il Pordenone in questo momento non è una passeggiata è una squadra che sta cercando in tutte le maniere di di migliorarsi ma comunque di avere già un uno spirito battagliero che contraddistinguono comunque le squadre che vogliono arrivare a fare il massimo noi non siamo partiti né per vincere né per arrivare secondi siamo partiti per fare il massimo la squadra secondo me piano piano sta migliorando e siamo convinti che siamo sulla strada buona sono molto felice per il il loro atteggiamento e la loro disponibilità credo che questo sia sicuramente una cosa importante da segnalare come da segnalare anche diciamo la bravura dei giocatori un pochino più vecchi nell'inserimento quindi abbiamo cercato in tantissimo tempo di in pochissimo tempo di trovare un amalgama e trovare un un minimo comune denominatore adesso piano piano con le conoscenze reciproche si sta assottigliando quelle che sono le difficoltà iniziali diamo anche un po di informazioni relative alla partita tra Pordenone e Parma la tribuna centrale e laterale del dell'impianto dello stadio bottecchia ormai esaurita da tempo ci sono ancora qualche biglietto di gradinata e anche per il settore ospiti per cui però si deve ancora ottenere l'agibilità da parte della degli organi competenti quindi la società nero verde dalla disposizione nei prossimi giorni è chiaro che chi vuole vedere la partita tra Pordenone e Parma deve affrettarsi per acquistare un biglietto se lo prende in gradinata ovviamente ha la certezza di poter assistere all'incontro un Pordenone Parma che si avvia a essere il big match per questa quinta giornata di andata del girone B di Lega Pro abbiamo chiesto anche al mister quali siano i suoi obiettivi quale sia il suo pensiero relativo alla prossima gala che vedrà protagonisti capitane Stefani e compagni la partita che avrei che giocassero è esattamente quella che stiamo cercando di proporre sempre c'è ricca di intensità lavorativa di ricca di concetti di squadra e con il massimo rispetto che abbiamo di questa squadra che è stata costruita georgicamente per fare un grande campionato però sappiamo anche che insieme possiamo raggiungere degli obiettivi insperati insomma l'esperienza insegna. Il mister Tedino sta scrivendo la storia del Pordenone come anche recita una nota dell'ufficio stampa di Marco Michelin ufficio stampa del Pordenone un mister Tedino che sarà protagonista assieme a Franco Causio di una serata a Pordenone legge l'evento clou che vede la città in riva al noncello ospitare la rassegna dedicata ai libri rassegna dedicata all'editoria un Pordenone legge che in questa edizione avrà dunque il mister Tedino tra i protagonisti. Vedere da vicino dei campioni veri degli esempi che sono stati degli esempi dello sport è normale che anche da parte mia dopo aver visto da vicino lavorando insieme anche con Gianni Rivera mi capita l'occasione di avere da vicino anche Franco Causio credo che insomma ci sia sempre da estrapolare qualcosa di importante della loro grandissima esperienza un giocatore ritrovato per il Pordenone è ovviamente Michele D'Agostini ragazzo di grandi capacità tecniche in campo ragazzo di grande ragazzo di grande personalità e di grande simpatia fuori dal campo uno dei giocatori su cui il mister Tedino sta costruendo una stagione che visti i prodomi visto l'inizio appare decisamente positiva siamo all'attiva ad ascoltare dalla viva voce di Michele proprio che abbiamo avvicinato al centro sportivo De Marchi le sue impressioni riguardo la partita tra Pordenone e Mantua Ma ci ha detto le solite cose di proporre il nostro gioco di stare uniti ed era sicuramente contento come tutti quanti alla fine perché sono stati veramente tre punti importanti e una bellissima vittoria di squadra siamo siamo felici dei risultati che stanno arrivando ecco quello sicuramente la classifica è bella perché è bella però ecco siamo solo all'inizio noi dobbiamo cercare di lavorare come stiamo facendo per per migliorarci ogni ogni giorno e sicuramente c'è grande entusiasmo quello sì e speriamo di continuare su questa strada No no è iniziata bene sono contento dopo i problemi che ho avuto l'anno scorso soprattutto l'infortunio della caviglia adesso ho recuperato ho ritrovato un grande entusiasmo dove dopo due infortuni non era facile ecco riprendersi perché in otto mesi ho praticamente giocato solo una partita da 90 minuti e ho grande voglia di riprendere e rimettermi in gioco e dare una mano ai ragazzi e alla squadra devo dire che chi è arrivato insieme ai vecchi ha creato subito una bellissima amalgama i giovani anche sono veramente dei bravi ragazzi serie grandi lavoratori e questi sono gli elementi fondamentali per creare un grande gruppo sia lavorativo che d'amicizia siamo stati bravi a fare tutte e due le fasi in undici perché il calcio anche questo si attacca in undici si difende in undici quando c'è stato da soffrire abbiamo sofferto e ci abbiamo sempre creduto ecco insomma con l'unione io penso che questo gruppo possa andare lontano e ovviamente con lo stesso Michele abbiamo dato un'occhiata a quelle che sono le ambizioni dei neroverdi in vista della gara di sabato allo stadio Bottecchia contro il Parma spero sia una bella partita per tutti anche insomma sentendo le stime degli spettatori ci sarà un Bottecchia pieno ci fa piacere e noi certamente faremo di tutto per portare a casa il risultato Parma è sicuramente una delle squadre più forti di questo campionato ho giocato tante volte contro Evacuo e devo dire che è un bel pezzo da 90 penso che i tifosi siano molto contenti di come abbiamo iniziato questa stagione e sono sicuro che verranno a darci una mano come hanno sempre fatto e io li invito calorosamente allo stadio e so che ci daranno il loro contributo Giova a ricordare che la prevendita dei biglietti per Poldenone e Parma terminerà venerdì alle ore 19 per cui ancora poche ore e un paio di giorni di tempo per i tifosi del Poldenone e anche per i tifosi del Parma evidentemente per acquistare i tagliandi per l'ingresso allo stadio Bottecchia dunque manca davvero pochissimo per quei pochi che non abbiano ancora il biglietto per Poldenone e Parma vi ricordo che la prevendita finisce, si esaurisce venerdì alle ore 19 occorrete subito nelle rivendite ufficiali per accappararvi il tagliando per l'ingresso allo stadio Bottecchia sabato Poldenone contro Parma, il big match della Lega Pro Poldenone contro Parma, il big match della Lega Pro